Io non rischio, buone pratiche di protezione civile. Affrontare un rischio naturale non è facile, ma tu puoi fare molto per ridurne gli effetti. Vieni a scoprire come nelle piazze della tua regione e sui canali social, dove i volontari di protezione civile ti aspettano con la campagna Io non rischio. Scopri di più su iononrischio.it